E' eccovi! Pan Pan Pan! L'hanno trasformato in un anghieno! Eh se ne è stata a fare! Oh come è ma stata a fare? Pan Pan Pan! Guarda sopra di te! Guarda! Guarda! Si ma è stata a fare! Salta! 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 Si ma è stata a fare! Si ma è stata a fare! Si ma è stata a fare così! Si trovano lì! 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 Ma che mi ha messo con il fascio? Eh? Un fascio! C'è me lo hai visto? Tu! Si ma è stata a fare! Si ma è stata a fare! Si ma è stata a fare! Si trovano lì! Si trovano lì! Si, ma c'è me lo hai visto! Si trovano lì! Ma che non c'è la pernessa? Ma guarda il cielo! Perché scuola il suo aga? Perché c'è il cielo! Ma guarda il cielo! Ma guarda il cielo! Faccio un po' questo, sta rompendo paghecchie cose, io devo fare una cosa, ma noi in acqua dobbiamo uscire un po' le cose, mi saia che ho in passare erti c'è stato finito RB dice ralleggi per tappi ma quando c'è la terra c'è la terra e nel certo momento di spartare non c'è la terra No! Vai Lufi! Vai Lufi! Vai Lufi! Dove sei? Dove sei? Mi piace! Vai Lufi! Vai Lufi! Giusto? Ma non mi stanno disfacando Qua sono proprio una minima Questa era mai Basta! Che c'è? Che c'è? Io sono un sacramento Ma tu? Andiamo Che c'è stato? No! 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 lo vuole la canna questo l'ha, di questo l'ha oh, che cos'è? sto andando si può portare al sicuro dai, dobbiamo impattare le piagge dove va andare qua? non c'è un po' un po' d'accordo la scopo che perchè es 20, 20 euro? l'ho, l'ho l'ho, l'ho 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 papà c'è lì papà guida al lupo un box al lupo guida al lupo guida al lupo andiamo andiamo guida al lupo guida al lupo guida guida ma quante si fa quante si fa ti fa faria ti fa faria scrivete mi uomiti ti faccio ti prendo mi comp Strut mi considero ti posso sei morto? sei morto? ti prendo un'altra volta ecco l'obiettivo che bello che bello però sono un alieno e posso buttare lì e prendo Giorgio che bello 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 va guida lì non so guida a parte che sta mezzorotto non penso Siamo morti, mi fai niente. Siamo morti. Siamo morti. No, perderemo. Quattro, quattro fa un botto di danno. Allora. Oh! Uh! Gatto! Ha un botto di danno. Attento, attento! Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma c'è c'è questo ultimo. Perché c'è c'è un'altra papà. Ma tu ma stai qua. No! No! Non è giusto. Ma stai qua. No! Ma questo attimo ti devo qualche scendina. Forse Tobi, se ne ho pure il progetto che ho io. Credo, credo che imparate lui. Tobi, senti qua. Grande! Questa sarà il mio cucetino. Questa sarà il mio cucetino. Te lo dico. Va guida lufo! No! No! Bravo! Guida! Guida lufo! Buon appetito! Puoi fare il mio occhio. Mi puoi fare un'altra zocra? Sei fermo? Vai! Sei fermo! Eccomi. Vai! Io non mi seguo la tepa! Se buon lufo! Ah cosa è che stai facendolo?! Che bello! Che bello. Lo guardare con lo vino si dice no palma. Pasca, 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 vamo lo so. La gente siete. Pasca, pasca! Pasca, che tra l'exercita. Lo guardo avanti del potere palma! Segui la palla con il mio ufo, è vero? Sì! Ma c'è un ufo! C'è un intruso! Però lì non posso andare perché se portate l'ufo... Gli occhi, gli occhi... ...dicendo... ...dicendo la patria. Non c'è un'altra cosa! Guarda no! Ma... Ma che scegliere! Scegliere la patria! Sono sempre tedesco! Scegliere la patria! Scegliere la patria! Scegliere la patria! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.